Per acquistare crediti, IGVOLTE è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito, link in descrizione col mio codice coupon. Comunque parliamo di questa squadra, mettiamo prima un punticino da fissare in alto, cioè che mi sono arrivati i primi due quit della stagione, quindi in totale sarebbero 5 partite ma con i quit diciamo un 3,5 perché il primo quit è arrivato all'intervallo mentre stavo vincendo tipo 1-0, non ricordo, il secondo quit dopo 10 minuti sullo 0-0, una cosa incredibile, quindi consideriamo una sorta di 3 partite e mezzo. Comunque andiamo con la squadra, ho utilizzato 4-3-3 un po' più difensivo con i due cdc e un cc come potete vedere, cominciamo dal portiere che è Mignolet, Mignolet l'ho utilizzato per il semplice motivo che l'ho trovato sul mercato a uno scherzo, 700 crediti, quando invece costa sui 2.500 circa o giù di lì, quindi qualcuno l'aveva messo sbagliando a questo prezzo, io l'ho preso assolutamente, l'ho provato e devo dire che è un ottimo ottimo portiere, molto importante in questo gioco secondo me il riflesso dei portieri, è veramente fondamentale nonché la velocità nelle uscite soprattutto, oltre che vabbè al tuffo e la presa, il piazzamento non è altissimo, potete aggiustarvelo magari con una chemistry style, però a me non mi ha dato affatto problemi, mi ha salvato davvero tanti palloni. Poi, in difesa andiamo con il terzino destro, Neom, che è buono però ha un punto a sfavore, cioè il passaggio, a 63 di passaggio è un valore da giocatore bronzo sostanzialmente, quindi un po' bassino, inoltre a 2 stelle piede debole, quindi se la tira di sinistro fa dei disastri. Però, per il resto, per velocità difesa e fisico soprattutto è veramente forte, mi è piaciuto molto, anche perché lui è alto quasi 1,90 e con questa velocità fa veramente la differenza in difesa. Appunto, l'unica cosa migliorabile è il passaggio, per il resto è un ottimo terzino, costa comunque tanto, 3.000 crediti. Poi, il primo difensore centrale è Reed del West Ham, che è veloce, abbastanza veloce, ha un discreta velocità, con comunque ottimi valori di difesa e fisico, nonché un'altezza molto potente, 1.90, inoltre non costa tanto, circa 2.000 crediti, e poi ha questo work rate alto di difesa che gli permette sempre di essere appunto dietro a curare, non c'ho niente da dire, è veramente un buon difensore, ma tutta la difesa è ottima. Di fatto, il suo compagno di reparto è Ashley Williams, ho voluto affiancare Reed a un difensore un po' meno veloce, ma che abbia dei valori di difesa fisico migliori, Ashley Williams è il caso, che con Sentinella, tra l'altro, aumenta anche notevolmente appunto valori di difesa fisico, diventa veramente forte e costa poco, tra l'altro 1.500 crediti, io penso che sia un ottimissimo difensore centrale, mi è piaciuto davvero tanto. Infine, completiamo la difesa con il terzino sinistro, cioè Moreno, che lui è in realtà un Asa, bisogna usare il cambio di ruolo, oppure comprarlo già così, costa poco, sostanzialmente sui 2.500, anche meno ve la cavate, io l'ho pagato 1.800, più il cambio di ruolo è circa 2.000 crediti, però devo dire che è molto forte, mi è piaciuto molto, in difesa fa tanti recuperi, grazie soprattutto alla sua velocità, inoltre a Worket alto-alto, quindi attacca e difende sempre, è mancino, con 3 stelle piede debole, anche un discreto passaggio, quindi è davvero un buon terzino. Poi, andiamo con il centrocampo, troviamo il primo Cdc, che è T.O.T., che è uno dei mediani che uso sempre nelle squadre cheap ogni inizio anno, perché si trova sempre a poco, 1.500 crediti e comunque ti garantisce veramente tanta copertura e tanta quantità dietro, perché recupera davvero tanti palloni, per via dei suoi valori ottimi di difesa, fisico, vabbè, incredibile, 88 di fisico è tantissimo, anche se è solo alto 1.80, vabbè, solo. Poi ha questo Worket da difensore aggiunto, quindi appunto resta sempre dietro e recupera un sacco di palloni, costa poco, ha anche un discreto passaggio, cioè potrebbe essere migliore, chiaramente, però non fa schifo, ecco, e quindi devo dire che è un ottimo mediano. Mediano ottimo anche il suo compagno di reparto, cioè Inler, che ho voluto provare perché mi ispirava tantissimo, visto che a centrocampo, anche se i giocatori non sono estremamente veloci, fanno comunque la loro porca figura, infatti Inler l'ha fatta, davvero, ma bella, 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 perché mi ha fatto due gol in tre partite e mezzo, circa, e un assist ad avere un ottimo passaggio, ma soprattutto un tiro veramente micidiale. Dalla tre quarti non fallisce quasi mai, dalla distanza è molto, molto pericoloso, anche se non ha una grande finalizzazione che è un po' la sua pecca, però di destro, di sinistro, visto che ha anche 4 stelle pededebole, fa veramente dei tiri paurosi, dei cannoni, praticamente, poi costa pochissimo, meno di 1000 crediti, quindi io vi consiglio di provare questo giocatore, perché non ve ne pentirete, anche perché poi è forte come mediano, perché è buono in difesa e in fisico. Andiamo con il CC, che è la parte, diciamo, un po' più variabile della squadra, potete usare un po' chi volete, io ho utilizzato Giorginio Vinaldum, che ho voluto provare, sostanzialmente, perché mi sembrava avesse delle buone statistiche, non è il massimo, ma non è neanche scarso, nel senso che mi era partito bene nella prima partita, con un gol e un assist, se non sbaglio, e poi un po' è andato calando, anche perché adesso scopro che ha, cioè, ho scoperto prima che aveva 2 stelle pededebole, pensavo ne avesse 3, infatti di sinistro non è il massimo della vita, comunque, lui è più un trequartista, rispetto a un centrocampista centrale, quindi, vi consiglio di utilizzare un giocatore più di ruolo, magari un wheelchair, che non costa tantissimo, oppure chi volete voi, scegliete voi, comunque, non è malissimo nei contropiedi, anzi, è ottimo, per il resto un po' meno, comunque, un gol me l'ha fatto. E andiamo con l'attacco, la parte offensiva della squadra, cominciamo dall'ala destra, che mi è piaciuta molto, cioè Townsend, anche se mi ha fatto 0 gol, però è andato molto molto spesso vicino al gol, mi ha fatto comunque 2 assist, che non sono da buttare via, e, sostanzialmente, è velocissimo e difficile da prendere quando parte sulla fascia, anche un ottimo dribbling, abbastanza buon dribbling, ha anche un bel tiro, se per quello, purtroppo, la finalizzazione non è delle migliori per Townsend, comunque, è un sinistro che gioca a destra, quindi rientra sempre e tira, purtroppo, appunto, la finalizzazione non è il massimo, quindi, delle volte, prende pali traverso, oppure va fuori, però, comunque, sia a me piaciuto, cioè, non è per niente male. Poi, l'ala di sinistra è Lenz, che dovevo assolutamente provare, perché è stato uno dei miei giocatori preferiti negli scorsi anni, ha questo problema di essere un giocatore che ha workhead normale di attacco, che non è il massimo per un'ala, dovrebbe avere alto per essere il top del top, però è una grandissima ala. Ho riscontrato un po' dei problemi con le ali in questo gioco, nel senso, sembrano un po' gli esterni dell'anno scorso, che fanno fatica ad arrivare al tiro o al gol, però, comunque, Lenz mi ha fatto due gol e ha sempre giocato bene, è sempre veloce nelle ripartenze, soprattutto, non sbaglia quasi mai i passaggi, e quindi, penso che sia un'ottima ala, secondo me, per rapporto qualità-prezzo, forse la migliore, inoltre, ha anche 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, e un gran passaggio, soprattutto, un cross molto buono, e lo vedremo tra poco perché. Perché? Perché l'attaccante è, come ben notate, Rondon, che è veramente una bestia, mi ha fatto 4 gol in 3 partite e mezzo, e l'ho pagato tanto, questo è vero, 4.400 crediti, però vi garantisce sempre gol, sempre ottime prestazioni, difficilmente perde il pallone, è sempre in attacco, è sempre in posizione, è forte di testa, è veloce, ha anche un discreto dribbling, oltre che ad avere, chiaramente, 4 stelle abilità, ma anche 4 stelle piede debole, davanti alla porta, non sbaglia, praticamente, mai, e ha anche un fisico bestiale, perché è alto 1,90 circa, e ha una buona forza fisica, quindi, è un ottimo attaccante, forse uno dei migliori della Premier League, ed è un po' il benteché, che avevamo, magari, qualche anno fa, quello veramente devastante. Questo Rondon mi è piaciuto, come del resto, mi è piaciuta tutta la squadra, è una squadra che va sempre vicino al gol, vince, io ho vinto tutte le partite, ovviamente, e mi è piaciuto molto utilizzare, quindi vi consiglio di provare questa squadra, perché, comunque, non costa tanto, e vi garantisce la vittoria. Comunque, raga, questa era la squadra, spero vi sia piaciuta, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace, uscirà una nuova squadra, ovviamente, fatemi sapere nei commenti cosa volete, io pensavo, magari, a una Ligan molto bagata, perché di giocatori bagati ce ne sono, e molti, quest'anno, fatemi sapere, appunto, nei commenti, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, adesso vi lascio il clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! Grazie a tutti! Grazie a tutti